Ciao Italia! Ciao Parche! Ciao Potenza Picena! Sono Gabriele Cirilli! Come chi è Cirilli? Chi è Cirilli? Quella è un'altra storia! Potenza Picena, sto arrivando, vedete? Mi sono messo nel trenino, bello piano piano, perché è un trenino di quelli... ce l'ha le ruote? Non lo so, comunque arriverò! Arriverò il 26 settembre alle ore 18 in Piazza Matteotti, manifestazione incredibilmente importante, il grappolo d'oro e quando si parla di oro, signori, è Gabriele Cirilli! Potenza Picena, mi raccomando, vi voglio tutti, numerosi, uno spettacolo strepitoso, il 26 settembre alle ore 18 in Piazza Matteotti! Arriverò?